quando ho bisogno di endorfine da acquisto compulsivo queste qua sono le cose che compro spero che siano queste perché questa mi sembra un po troppo leggera e spero che ok va a batterie però c'è anche un adattatore però guardate che bella che è bellissima c'è un motivo preciso che spiega questa mia fascinazione quasi ossessione per le macchine da scrivere e in particolar modo quelle elettroniche anche perché comunque ne ho un bel po ad esempio vabbè vediamo ho la classica olivetti lettera 22 questa qua è storica era praticamente lo standard per quanto riguardava le macchine da scrivere era impossibile entrare in un ufficio qualsiasi e non trovarti la scura che tracopiava gli appunti cioè questa qua è un pezzo veramente di storia e orgoglio italiano esattamente come la olivetti valentine cioè questa ha fatto la storia del design tra l'altro valentine e lo registro oggi che è san valentino la mia festa preferita san valentino quindi guardate che bellezza questa qua soltanto a guardarla è meccanica è sexy il rumore che fa il fatto che avessero pensato che per loro ficcarla in una scatola del genere ai tempi questa voleva dire aver creato un prodotto portatile cioè di molti altri ce n'è un'altra ad esempio questa qui che è quella che uso spesso per scrivere cose io quella lì ce l'ho sempre plaggata e pronta all'uso perché mi piace quando mando qualcosa magari a un amico o una lettera qualcosa del genere mi piace scrivere la macchina con quella lì e c'è qualche cosa di più collegato cioè non lo so è come avere una polaroid o mandarti una foto su whatsapp la differenza per me è quella ora arriviamo a questa che ha un sapore particolare perché c'è una storia dietro per me molto importante bellissima mamma mia questa signori miei sembra un po renzis signori miei questa è la macchina da scrivere che aveva mia sorella quando io ero piccolo con la quale scriveva tipo le ricerche per scuola tutte e due che ha scritto questa qua per me ha un valore pazzesco perché io con questa praticamente la mettevo così prendevo un cartone al quale avevo disegnato tipo un finto schermo e facevo finta di avere un computer cioè per me questo è stato il mio primo computer non so se ci rendiamo conto il mio sogno il mio gioco da bambino era immaginare di avere un computer lo so che adesso per un ragazzino un bambino è normale avere un computer a casa ma per me era fantascienza cioè io in quei tempi pensavo io un giorno avrò un computer ci lavorerò farò casini cose che sono successe e quindi questo spero che funzioni ci sono buoni fogli per qualche ragione con le macchine da scrivere mi piace scrivere su fogli non bianchi non so esattamente perché alcuni me li ha rubati barbara comunque va bene ok funziona no vabbè è bellissima cioè è veramente un ibrido tra un... cioè mamma mia ma è la... cioè è bellissima tra l'altro cioè scrive con una qualità pazzesca cioè è troppo bella immaginiamo che sto scrivendo la sceneggiatura del mio film e voglio ovviamente avere il titolo in centro com'è che fai a sapere come centrarlo perché ovviamente se tu gli dici scrivi in centro ok ma come fai a sapere quanto è lunga la frase quindi c'è una modalità che tu gli dici scrivi in centro scrivi tutto il titolo quello che vuoi che venga in centro schiacci in bio lui lo mette nella sua memoria e lo spara nel centro ti faccio vedere c'è un mode lui va nel centro e il titolo del... non ha scritto niente schiacci in bio che cazzo di figata questa era avanguardia sto veramente veramente godendo tra l'altro funziona da dio l'adoro con tutto me stesso allora praticamente quando vado a capo ha bisogno lei del tempo per andare letteralmente a capo quindi puntare all'inizio della linea ma se io comincio a scrivere lei se lo mette in memoria poi lo fa super veloce cioè questa questo è futuristico pensa a prima che dovevi schiacciare poi cioè ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando ok facciamo una cosa divertente chi ha voglia scrivetemi tipo una domanda nei commenti la domanda più figa non su di me una domanda non so comunque la domanda più figa che riceverò nei commenti la selezionerò ti scriverò mi darai il tuo indirizzo e ti scriverò la risposta con questa macchina da scrivere e te la spedirò con franco bollo è proprio come i vecchi tempi voglio fare sta roba qui è tipo il futuro nel passato rivisto dal dopo futuro è è è è è è